Perché votare Alberto Negrini? Perché cambiare non solo si può, ma si deve. Perché votare Virginio Brivio? Non si cambia una città da soli, anche se si vincono le elezioni. Invitiamo quindi tutti i cittadini a essere presenti a votare domenica 14 per il ballottaggio del sindaco del comune di Lecco. Noi in questi cinque anni abbiamo avviato un cambiamento, abbiamo cercato di mettere a posto alcune delle questioni nodali che riguardavano il finanziamento, il bilancio, la ripartenza di alcune opere. Ci aspettano altri cinque anni che vogliamo fare con più determinazione e con ancora più entusiasmo a servizio della nostra bella città.